Benvenuti in questo nuovo video di MonoSport 07 Siamo qui per parlare di Formula 1 Ragazzi andiamo a parlare un po' di tutto in questo video Anche se precisamente voglio soffermarmi sul mio e stessimo parere del duello Verstappen-Hamilton Allora, allora, allora Intanto vi annuncio che non penso che vedrete più la felpa Ferrari Perlomeno da qui fino al massimo ottobre Anche di solito inizio a mettere le felpe a novembre io E purtroppo nel periodo nella quale si disputa il mondiale ragazzi Nel periodo nella quale dove si disputano le 22 gare Ecco però insomma raga, that's life, la vita è così La mia cara a Ferba Ferrari per l'alimento la sentiamo Allora, allora, ragazzi Chi è il favorito del duello di quest'anno tra Verstappen e Hamilton? Si dice che la Red Bull sia la macchina più veloce Si dice che Verstappen possa essere attualmente il favorito per il mondiale Ma come possiamo darlo per favorito se lui ha zero titoli in bacchega ed Hamilton ne ha sette? Ne ha sette ed Hamilton ha anche un buce di culo grosso così diciamo che c'è la verità È il migliore in pista ma per completezza è il migliore in pista Perché se parliamo solo come pilota per me c'è davanti Verstappen in questo momento Ma se parliamo di pilota completo quindi ci andiamo a mettere anche l'esperienza La velocità di pensiero perché ragazzi in Formula 1 saggio è chi pensa In Formula 1 non puoi essere saggio Devi pensare in una frazione di secondo come Hamilton in Bahrain Che è stato bravo a mettersi nel mezzo tra la traiettoria e Giovinazzi che era il pilota doppiato Per permettere a Verstappen di andare all'esterno In quel caso avrebbe superato il track limits Hamilton ha un computer in testa, un qualcosa veramente di incredibile Che lo porta ad essere migliore degli altri sotto questo punto di vista Il che è veramente un qualcosa di straordinario in modo di rivedere ragazzi Quindi Hamilton per me è il favorito Poi Verstappen ragazzi è un po' il talento puro È il Messi della situazione Ma ha molti meno anni di esperienze Ha tanti anni in un top team Perché per Verstappen questo è il sesto anno in Red Bull Anche se il primo anno è iniziato da un po' dove Però insomma per Verstappen questo è il sesto anno in Red Bull Verstappen ha alle spalle una cinquantina di podici Ce li ha, oddio non vorrei aver detto una cagata Ha cinquanta podi in Mcgagher Verstappen Penso di sì Magari lo andiamo a cercare Non andiamo a cercare una ceppa di niente Perché il computer ragazzi si è anche spento Quindi very very good Magari lo mettiamo a caricare Però ragazzi Max Verstappen ha alle spalle veramente già tanti bei numeri Le vittorie se non erro sono otto Ora non lo so ne ha fatta una nel 2016 Due nel 2017 sono tre Due nel 2018 e sono 2017-2018 sono cinque Nel 2019 ne ha fatte tre E nel 2020 ne ha fatte due Quindi se non erro sono addirittura Tre, cinque, sette, nove, dieci Cioè Verstappen ha già dei numeri veramente importantissimi ragazzi Ed è veramente un fenomeno Un talento cristallino assoluto per me È entrato in Formula 1 praticamente da minore N Ma c'è anche da dire ragazzi che Max Verstappen E anche in questo momento il friore Hamilton proprio per questa cosa che ho detto qui Hamilton si programma tutto al centesimo di millesimo Sa gestire credo anche leggermente meglio le gomme Verstappen è anche lui un fenomeno nel gestire le gomme ragazzi Però Hamilton fa sempre la cosa giusta Cioè sa sempre cosa fare Poi ci sta che ogni tanto Una volta ogni morte di papa Commette gli errori in pista ragazzi Perché come abbiamo visto a Imola Anche lui è umano Anche lui sicuramente sbaglia Questo è un dato di fatto Comunque Verstappen ha fatto 44 poti Quindi ci sono andato vicino Vabbè 0 campionati del mondo 121 gran premi 44 poti 10 giri veloci Ma non mi vuole proprio Non mi vuole proprio dire l'app Quante vittorie ha Va bene Comunque Hamilton per me è assolutamente il favorito Sotto questo punto di vista Poi ci sono anche altri fattori ragazzi Che ci sono altri due secondo me L'affidabilità Perché oltre ad essere il migliore in pista In questo momento Hamilton è anche Anche l'auto più affidabile Magari in questo momento la Red Bull È leggermente più prestazionale Della Mercedes Non lo sappiamo Può anche darsi che Verstappen Ha tirato fuori il coniglio dal cilindro Ma l'affidabilità È da sempre il punto Negativo della Red Bull Il tallone d'Achille della Red Bull È sempre stato l'affidabilità Finora ne sono pensate solo due gare ragazzi E dove comunque la Red Bull Qualche errorino di strategia Lo ha fatto Ha piedato Perez Il motore Honda Lo ha fatto anche con Gasly e Snowda Ha piedato Verstappen Solamente nell'FP1 di Imola per ora Però ragazzi L'affidabilità è sempre stato il problema Della Red Bull L'anno scorso per Verstappen Quattro ritiri No mi sembra addirittura cinque Che comunque sono tanti cinque ritiri Eh ragazzi L'anno precedente Comunque aveva fatto un bel po' di ritiri Max Verstappen Daniel Ricciardo Tre ritiri nelle ultime quattro gare Che gli hanno fatto perdere il quarto posto nel 2017 Daniel Ricciardo Otto ritiri stagionali nel 2018 Ragazzi quindi veramente parliamo di un'auto Che in termini di Come posso dire In termini di Affidabilità appunto È veramente molto molto inferiore alla Mercedes Vedremo come era quest'anno Ma nel motore Honda Non Non che il motore Renault fosse peggio È vero ragazzi Il motore Honda non lo vedo affidabile come quello della Mercedes Almeno a mio modo di vedere Poi c'è anche l'attribuire alla fortuna La fortuna Verstappen Poteva avere 50 punti in questo momento Perché in Barena alla fine è stato penalizzato Per essere uscito fuori dai track limits Ma alla fine Hamilton è uscito fuori Per 50 giri sui 70 A momenti E non gli hanno mai detto nulla Poteva farlo anche Verstappen Se l'avesse fatto Verstappen Aveva avuto più tempo per attaccare Ha fatto anche degli errori strategie alla Red Bull Ma ragazzi Verstappen poteva veramente vincere due gran primi su due Senza contare il fatto che Hamilton è stato fortunatissimo a Imola Perché il MotoGP Quella cosa lì di safety car Non esiste Cioè ragazzi In MotoGP esci fuori Ciao Cioè Poi magari ti rialzi Però da esser secondo Ti ritrovi sedicesimo In un attimo In MotoGP Questa roba della safety car Non esiste Cioè parliamoci chiaro Quando uno cade E il gran primo è finito O altrimenti Marquez avrebbe vinto Il moto mondiale Anche nel 2015 Per farvi capire No Quindi C'è anche l'attribuire alla sfortuna Perché in questo momento Verstappen Avrebbe anche voluto avere 50 punti Con Hamilton Che ne poteva avere solamente 18 Per farvi capire Ragazzi Se si mescolano le carte in tavola Basta un dettaglio Per far la differenza Cioè che veniva Meglio esposta Alla cosa di track limits E che non ci fosse stata Bandiera rossa Hamilton si ritrovava Con 18 punti E che E Verstappen si ritrovava Con 50 Aveva già 32 punti di vantaggio Che sono pesantissimi Invece Niente uno di svantaggio Cioè per farvi capire Questi dettagli La Red Bull Non può permettersi Di perderli Secondo il mio punto di vista Certo Non dipendeva neanche Troppo dalla Red Bull Il fatto che Hamilton Avesse fatto Quell'errore lì Il gran primo è stato Veramente pazzo Poteva andare Leclerc sul podio Invece Invece Ci hanno pensato Russell e Bottas Che fanno anche pensare Un po' a male Che Russell e Bottas Nel giro in cui va fuori Hamilton Sì vabbè Il nomino Hamilton La luce ormai lo sapete Che è un po' Come Cristo vuole ragazzi Detto questo ragazzi Andiamo a parlare un po' di altro Perché non volevo Soffermarvi troppo sul due All'overstappen Hamilton Io ho fatto capire Che Hamilton Credo sia leggermente Il migliore in pista Rispetto a Verstappen Che ha un'auto più affidabile E che è stato finora Già abbastanza più fortunato Rispetto a Max Poi magari la fortuna Io posso anche dire La fortuna gira ragazzi Ma abbiamo visto Come Hamilton Sembra baciato dal signore Che sembrava distratto Dalle bestemme di Zunoda Quindi Ha pirato Hamilton A Imola Poi se ricordato Ha messo la bandiera rossa Safety car I soliti aiutini Chi ha Hamilton No ragazzi È stato veramente fortunatissimo Una fortuna Veramente incredibile Parlando un po' di altro Hamilton si dimostra Uno dei migliori in pista Perché ragazzi? Perché Bottas Certamente non è un pilota Su cui avere dei punti di riferimento Come poteva essere Rosberg Come può essere Non ne so Leclerc Come può essere Verstappen Come può essere magari anche un Perez Che comunque sono grandi piloti Magari Bottas È oggettiva la cosa Uno può anche metterlo sotto a Perez Su Noda Eccetera eccetera Ma rimane sempre un pilota di Formula 1 Valtteri Bottas Che ha alle spalle Se non erro Sei vittorie In quattro anni Quante vittorie ha fatto con la Mercedes? Ne ha fatte tre nel primo anno Zero nel secondo Quattro nel terzo Sono già sette L'anno scorso Nove vittorie ragazzi Bottas è comunque un pilota Che ha Alle sue spalle Nove vittorie Una Quindicina di pole position E una cinquantina di podi Comunque è un pilota di Formula 1 Ragazzi Quindi Avere questa differenza Così sostanziale Di Bottas Che si ritrova Nono attaccato Da una Williams E Di vedere anche Magari un Che ne so Un Bottas Che Si prende sempre Un sacco di decimi Da Hamilton in qualifica Anche se l'anno scorso E anche due anni fa In realtà Bottas non è stato Neanche tanto Di così tanto Inferiore a Hamilton C'è anche la dire questo Quindi Bottas Queste sue uscire di scena Comunque dimostrano Il fatto che Hamilton Sia un gran pilota Perché Bottas Può anche essere Il più scarso della griglia Rimane comunque Un pilota di Formula 1 Un pilota che ha Nove vittorie Una cinquantina di podi E quindici pole position Questo non glielo toglie Nessuno ragazzi E il fatto che Hamilton Abbia una supremazia Così evidente Sul compagnolo di squadra Non è che possiamo dire Che Verstappen Ha la supremazia Su Albon Verstappen è un fenomeno Hamilton ha la supremazia Su Bottas Eh ma Hamilton Ha una macchina più veloce Ok Io sono il primo a dire Che Michael Schumacher Ed Hamilton È anche impossibile Fara un confronto Perché epoche diverse Ad avversari diversi Circostanze diverse Eccetera eccetera Entrambi hanno Sette titoli mondiali Però Hamilton Ha avuto più gara Disposizione Più gara Disposizione Anche con la macchina Veloce Quindi è impossibile Fara un confronto Ma nel totale Io rimango fedele A Michael Schumacher Dieci spanne Sopra Hamilton Poi è anche un po' Impossibile confrontarmi Però per me Michael Schumacher Di tanto sopra Hamilton Però le cose giuste Vanno dette E anche con una certa Obiettività Secondo me Le cose tra i loro due Vettel Mi andava a cagare Leclerc Leclerc Mi andava a cagare Vettel Quando è A parte che Leclerc e Vettel Si sfiorano con la forza Del pensiero E si evitirano Tutti e due E gli arriva un bolide nucleare A Hamilton A Monaco E lui non fuori Cioè ma raga Hamilton ha un culo Della madonna Comunque Questo c'è assolutamente Da dire E Norris Parliamo anche Parlando anche di E dicevo Russell appunto Si vede a caldo Quando uno È in È diciamo Frustato o meno Russell è molto frustato Perché è un incidente Dove comunque Il 60% Ma anche Il 80% Secondo me Delle colpe Sono sue Russell è il grandissimo pilota Ma con obiettività Dico che in questo Incidente Le colpe Purtroppo Sono sue Dico purtroppo Perché è un pilota Che mi sta molto simpatico Si è visto comunque Frustato Come se la colpa Fosse di Bottas Bottas che In quel Incidente Di colpe Ne aveva praticamente Zero Aveva solo Il peccato Di trovarsi lì Diciamo così Va Russell ha portato Le slick Su pista bagnata Quindi alla fine Alla fine un po' Troverò da aspettare Norris Parlando di Norris Ha fatto veramente Un super avvio di campionato Un quarto E un terzo posto Quindi veramente Un grandissimo avvio di campionato Però Norris è sempre stato Un pilota molto discontinuo Quindi vedremo Con l'andare del 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 tempo Come andrà È stato anche fortunato A Imola Perché ha fatto Lui terzo Leclerc quarto Quando in realtà Poteva fare Secondo Leclerc E lui terzo O addirittura quarto Qualora l'avese superato Anche Sainz Perché secondo me Sainz Ne aveva per andarlo a prendere Ne aveva e come Si è bagnata la Ferrari Si è dimostrata molto molto buona Una Ferrari in netto miglioramento Rispetto allo scorso anno Abbiamo superato Alpine Aston Martin Che l'anno scorso Erano Renault Il Racing Point Vabbè Oltre a cambiare il nome Hanno pure cambiato la macchina Perché questi Quest'anno stanno facendo cagare E quindi una Ferrari Che comunque se la gioca E lì a lottarsi L'ha fatto veramente Un ottimo avvio Bene anche Sainz Un ottavo E un quinto posto Poteva andare meglio Ma poteva anche andare peggio Sainz ha fatto Espromette degli errori Deve ancora abituarsi alla macchina Ma Sainz è sempre stato così Ma una volta che si abitua Alla macchina Sainz Non lo togli più nessuno Ragazzi E' un animale da gara Impressionante Sainz Un animale da gara impressionante Faceva degli errori in gara Questo è vero Ma quando faceva dei giri veloci Prendeva un secondo Al giro alla McLaren Andava più forte di Leclerc A un passo carate alla Madonna Quindi ragazzi Su questo pilota Io sono molto molto fiducioso E vi accorgerete Che sarà così Di questo ne sono veramente convinto Dico sempre delle cose Con estrema Come posso dire Precisione Cerco sempre di precisare Il fatto che Al 99% Sono convinto di una cosa Io Ma di questo Sono convinto al 100% Sainz è un grandissimo pilota Ora non lo so Può darsi anche Che con le regole del 2022 Le regole cambiano Quindi magari anche Il Bottas di turno Diventa più forte di Hamilton Questo non lo so Perché alla fine Non è fatto di quanto Sei bravo alla guida A Formula 1 È fatto di quanto Sei bravo a guidare La macchina contemporanea Perché ragazzi C'è chi è andato molto più forte Con l'era turbo ibrida Ma mentre con L'era precedente Con le macchine precedenti Faceva merda Per farvi capire No raga Quindi Sainz migliorerà Gran pilota Un animale da gara E sono convinto Che farà veramente bene Parlo anche bene Di Alfa Romeo Alfa Tauri Che si sono rimesse in gioco Lottano molto più costantemente Per la zona punti E comunque Hanno fatto uno step in avanti Rispetto allo scorso anno L'Alfa Tauri Ha fatto uno step in avanti Da essere la settima La quinta forza E l'Alfa Romeo Da essere l'ottava Comunque a giocarsela Molto più spesso Per la zona punti È vero che Giovinazzi è stato sfortunato Raikkonen non ha rispettato La cosa delle bandiere gialle Poi ragazzi L'Alfa Romeo Intanto per due gare su due È stato a ridosso Della zona punti Ci ha lottato Ed è sicuramente Ha giottato veramente Una base per il futuro Non parlo bene per niente Di Alpine e Aston Martin E ovviamente anche di Ass Perché dobbiamo mettere Anche l'Asia La Williams È vero che la McLaren Anche se è migliorata tanto Rispetto allo scorso anno Se la gioca con la Ferrari Per il terzo posto Anche se momentaneamente È di gran lunga davanti Vabbè di gran lunga Dieci punti Però per essere due gare C'è da dire anche Che la McLaren Ha fatto veramente Un super step in avanti Con il motore Mercedes Non credevo potessero Portarsi così avanti Con il motore Mercedes Alpine e Aston Martin Sembrano spaisate Hanno se non mi sbaglio Sei punti L'Aston Martin E quattro L'Alpine Quindi veramente Hanno fatto una merda Finora Diciamoci le cose come stanno E niente Ora andiamo a vedere Come si andrà a fare Sto gran premio di Portimao Io pronostico Comunque una gara Abbastanza strana Cioè avremo Tre gare su tre divertenti Perché abbiamo avuto Le prime due gare Molto divertenti Una vittoria combattuta In Bahrain Delle posizioni Combattute dietro Con la rimonta Di Sergio Perez Tante sorprese Un gran premio di Imola Veramente pazzo Una bandiera rossa Tanti incidenti Le clerche Che recuperavano Un secondo al giro Su Norris E poi purtroppo Si è vista spiegato Alla fine Comunque è stata Veramente una bellissima gara Quindi insomma Per noi vedremo Una terza gara bella Su tre E anche con qualche Colpo di scena Io non so chi vincerà Perché ragazzi Pronosticare la Formula 1 È veramente impossibile Non so chi vincerà Ma io ho la netta sensazione Che Lewis Hamilton Ci metterà Ancora del suo Quindi se vi chiedete Un pronostico Io vi dico Hamilton Se poi Hamilton Si ritira Il bacio della morte Ragazzi Detto questo Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Dimmi di lasciare un mi piace Caso contrario Un dislike Come se siete d'accordo Un disaccordo con me Se non è ancora avuto Iscrivetevi al canale In descrizione Il link per i secondi Su Instagram Devono rispondere Già risette È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi E noi ci vediamo E noi ci vediamo